Dopo diversi rinvii è partito il cantiere per la realizzazione della pista ciclo-ortellistica in zona Torraccia. Per il Comune di Pesaro si tratta di un investimento nell'impiantistica sportiva da 2 milioni di euro, un milione e mezzo dei quali finanziati dal PNRR nella sezione Sport e Sociale. Il progetto fu annunciato già nel 2021 e ha visto partire mercoledì i primi lavori di 330 giorni di cantiere che puntano a consegnare l'opera fra un anno nella primavera 2025. Si tratta di un impianto particolarmente atteso nel mondo del ciclismo e del pattinaggio cittadino, principali destinatari di una struttura polifunzionale che andrà a coprire una carenza di spazi per queste discipline sportive. La struttura è stata posta in un'area che stava finendo in progressivo degrado, tant'è che per avviare il cantiere è stata necessaria una bonifica dai rifiuti ed i li trovati nello spazio verde in questione, collocato fra i perrossini, vitrifrigo arena, pista ciclabile sul Foglia e deliporto. Nello specifico sarà realizzata una pista ciclistica di 2,2 km oltre a 600 metri dedicati alla rotellistica. A Tigua la pista sarà realizzata una palazzina su due livelli in cui saranno collocate palestra, spogliatoi, infermeria, uffici secondo le omologazioni coni. Prevista anche un'altra area outdoor dedicata a basket e a discipline compatibili agli spazi.